Ciao, Mauro, dall'Ariano, da 1 a 10 per me il vino conta 150, rappresenta una cosa fondamentale che è un'emozione e la vita è fatta di emozioni in qualsiasi ambito, il vino è assolutamente una di queste è difficile rintracciare il momento in cui nasce, io mi ricordo che da bambino veramente molto piccolo già mio nonno mi accompagnava nelle vigne, mi faceva vedere, mi faceva capire e poi partecipavo con lui ad alcune operazioni di cantina forse credo sia quello il momento in cui nasce la passione per il vino